E' una bellissima immagine che l'Italia dà a tutti coloro che passano e transitano da Roma ed esportano anche il nostro Made in Italy nel mondo. E' una bellissima esperienza e soprattutto per il mio bimbo. E' una scoperta bellissima, non capito da dove veniva la musica. Ho fatto un video e lo dedico a mia figlia che è alle prime lezioni di violoncello a sei anni. E' un'iniziativa meravigliosa, meravigliosa. Abituati a partire dentro l'aeroporto, invece oggi una sorpresa. Una sorpresa, in effetti pensavo di essere su uno di quei video che girano su YouTube in cui delle situazioni come queste poi diventano un flash mob. Invece no, erano veramente dei musicisti, non ci hanno venduto niente se non dei bellissimi momenti di musica, del che li ringraziamo. E' un'iniziativa meravigliosa. E' un'iniziativa meravigliosa. E' un'iniziativa meravigliosa. E' un'iniziativa meravigliosa.